Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi parlerò della cripto caccia al tesoro. Quest'iniziativa avrei voluto farla già da molto tempo, però diciamo che dal punto di vista tecnico non era ancora tanto fattibile. Per fortuna oggi ci siamo quasi sia a livello di conoscenze della massa, sia a livello di tecnologie che effettivamente rendono questa cripto caccia al tesoro una cosa veramente interessante. In questo momento se andate a vedere sui social ci sono due hashtag che appunto si fronteggiano che sono appunto quello di cashless e bankless. Cashless sono quelli che vorrebbero un futuro dove praticamente le banche gestiscono qualsiasi tipo di transazione tra due persone e bankless sono quelli che vorrebbero anche loro fare transazioni digitali ma senza passare per una banca. E questo vi consiglio di andare a vedere su Twitter i vari tweet che ci sono. Ma andiamo a vedere un po' meglio che cos'è questa cripto caccia al tesoro. Allora appunto gli hashtag che riguardano i pagamenti digitali sono appunto cashless, bankless, money2020 e il G20 che ci sarà in Argentina. Per fare questo tipo di iniziativa appunto ci va una conoscenza abbastanza minima delle criptovalute e il risultato che si vuole ottenere è appunto far sì che questa iniziativa si diffonda il più possibile. Quindi chi è che può partecipare? Può partecipare chiunque abbia già delle criptovalute. E come si partecipa? Basta fare un paper wallet, lo si può caricare con qualche frazione di criptovaluta e poi tutti quanti in una data precisa che poi vi spiegherò perché possiamo condividerlo ai nostri contatti oppure metterlo in luoghi che ci fa piacere appunto mettere questo tipo di paper wallet. E appunto se non avete criptovalute potete comunque condividere questa iniziativa o comunque vedere come si evolve nei vari social. Paper wallet. Ho già fatto alcuni video a riguardo, comunque il paper wallet è una cosa di questo tipo. E se non avete visto come si fa il paper wallet vi consiglio di andare a vedere la mia playlist dove appunto faccio vedere come si fa un paper wallet e come si importa un paper wallet. La cosa interessante è che appunto in questo modo qui potete utilizzare questo tipo di struttura sia se volete diciamo stamparlo oppure se lo volete semplicemente condividere tra i vostri follower o contatti sui social. Io utilizzerò la criptovaluta nano per il fatto che appunto mi permette di dividere un nano o comunque una frazione di nano in tantissime parti quindi volendo potrei regalare un millesimo a persone sconosciute giusto così per spingerle a provare questo tipo di tecnologia. E per quanto riguarda nano appunto il wallet non è ancora stato rilasciato ufficialmente per Android ma anche qui se andate a vedere nei link e vi mettete un attimo a cercare dovreste poterlo installare anche voi. Vedete nano, unreleased, non è rilasciato però è già disponibile sul Play Store per Android. Io vi consiglio di utilizzare questo qui per Android ovviamente se avete Android perché comunque è molto maneggevole e molto pratico quindi anche le persone che non hanno conoscenza delle criptovalute si possono avvicinare in modo abbastanza semplice. Quindi sicuramente la parte più importante del paper wallet è questo QR code segreto però se decidete di utilizzare un'altra criptovaluta dovete diciamo istruire voi le persone per poter prendere questo QR code. e quindi nel caso di nano installate il wallet e importate il seed quello che ho già fatto vedere nei miei video è un'operazione semplicissima e poi se gli altri vogliono partecipare a loro volta possono farlo tranquillamente quindi questo è quello che vi permette di importare la quantità di criptovaluta nel vostro wallet l'indirizzo pubblico non è un'informazione che è necessaria nel senso uno che importa la chiave privata già vede poi l'indirizzo pubblico però voi potete utilizzare questo indirizzo pubblico per vedere se effettivamente poi una persona è riuscita a prendere queste criptovalute e ovviamente si tratta di un paper wallet generato da un'altra persona l'unico modo per effettivamente essere proprietari di questa criptovaluta è quello poi di trasferirli in un altro paper wallet dove solo noi siamo a conoscenza della chiave segreta e tornando al quando perché il venerdì 16 marzo e la risposta è quasi ovvia perché il 16 marzo è il giorno prima del G20 che tratterà proprio l'argomento delle criptovalute quindi c'è da aspettarsi che ci siano delle notizie più o meno positive però il fatto di parlare di questi argomenti anche dal punto di vista di chi già conosce le criptovalute è un modo per rendere la discussione più interessante il meeting ci sarà appunto a Buenos Aires il 17 marzo quindi meeting appunto della finanza con i rappresentanti delle banche centrali e è curioso che ovviamente usciranno fuori sempre i soliti argomenti delle criptovalute che fluttuano eccetera però la cosa curiosa è che questo G20 viene fatto in Argentina che è lo stesso paese dove in un giorno la valuta locale è crollata del 30% quindi non sono solo le criptovalute ad oscillare sono anche le valute degli stati ad oscillare spero che parteciperete anche voi a questa iniziativa mettete un mi piace e condividete se volete anche voi partecipare a questa iniziativa decentralizzata e utilizzate l'hashtag questo qua che è cripto caccia al tesoro ciao a tutti